La Pestoiese vince il derby del Lunco Bisenzio a Prato, supera i lanieri per 3-1, un risultato che si è deciso nel primo tempo. Una meritata vittoria per gli arancioni che così continuano la striscia positiva e sono punti importantissimi. Un successo fondamentale sia per la classifica ma anche per il morale di questa squadra in un momento molto delicato e dopo giorni particolari. Meglio il primo tempo rispetto al secondo per la squadra di Mister Consonni. Solo dopo due minuti la Pistoiese sblocca il risultato grazie ad un calcio di rigore. Dal dischetto la freddezza del numero 29 arancione Trotta non perdona. La squadra di Mister Consonni raddoppia al diciottesimo grazie ad una bella azione manovrata da Trotta che serve perfettamente Criso Vergis pronto a siglare il 2-0. Azione da vedere e rivedere. Prova il Prato ad affacciarsi dalle parti di Valentini, reclama per un penalty ma l'arbitro non è dello stesso avviso. I lanieri accorciano le distanze grazie a Mobilio, autore della rete pratese, ma non tarda ad arrivare la reazione della Pistoiese. Dopo due minuti salto aumenta il vantaggio arancione firmando il 3-1. È così che termina il primo tempo. Il Prato rientra in campo con un piglio più intraprendente e costringe la Pistoiese a difendersi. In diverse occasioni il Prato si rende pericoloso ma la retroguardia arancione riesce a restare sempre attenta. Più possesso palla per il Prato con un marangon su di giri sia in movimento che anche su calcio piazzato. Passano i minuti fra cambi dall'una e dall'altra parte. Forcing del Prato con il miracolo di Valentini su D'Agostino. 5 minuti di recupero con il giovane Fiaschi che va vicino al quarto gol. Poi il triplice fischio. La Pistoiese conquista tre punti importanti per la classifica e sale a quota 18 festeggiando simbolicamente sotto la curva degli ospiti che ricordiamo è rimasta vuota per questa partita per protesta dei gruppi ultra arancioni. Due tifoserie che comunque si sono manifestate vicine a chi è stato colpito dall'alluvione dei giorni scorsi. Causa anche poi il posticipo di questa partita era il recupero dell'undicesima giornata. I lanieri con uno striscione 2-11-2023. Fango e acqua non possono fermare una città abituata a non mollare. Mentre i tifosi arancioni con divisi dal calcio uniti contro il fango. Ricordiamo la Pistoiese vince il derby 3-1 contro il Prato.